Cassibile, lavoratori agricoli stagionali, riaperto all'ostello alla presenza del prefetto Scaduto e della CIA. Anche per la prossima raccolta stagionale delle produzioni agricole del Siracusano sarà utilizzato l'ostello per i lavoratori stagionali agricoli realizzato negli anni scorsi nella frazione di Cassibile. L'avvio della riutilizzazione ieri pomeriggio alla presenza del prefetto di Siracusa, Giuse Scaduto, dell'assessore comunale alle politiche sociali Concita Carbone, della presidente CIA Sicilia Sud-Est, Marinella Schifitto e del direttore della stessa organizzazione, Sebastiano Enzo Aglieco. Già prenotati circa 65 dei 100 posti disponibili da parte di immigrati che saranno occupati nella raccolta stagionale. Una ospitalità ben diversa rispetto al precedente precario accampamento preesistente nella stessa zona. Per il prefetto Scaduto si tratta di una importante collaborazione scaturita negli anni scorsi fra istituzioni locali e organizzazioni di categoria sia imprenditoriali che dei lavoratori agricoli. Un esempio concreto che è possibile creare condizioni di integrazione nel lavoro fra i campi.